Federico Bargi è finita la partita Civitanova Marche, bellissima vittoria per l'Emma Villas Siena, vittoria convincente per 3 a 0, la Golden Plast della Potenza Picena qui all'Eurosuole di Civitanova Marche non aveva mai perso quest'anno, e allora Federico, impressioni alla fine di un match importante e delicato che avete giocato veramente molto bene? Sì, le impressioni sono decisamente buone, decisamente ottime perché per noi non era una prova semplice. MVP, dice Spadavecchi. Sì, sì, va bene, lasciamo perdere, MVP come ho detto prima, non ce n'è uno ma siamo tutti. Sì, comunque non era una prova semplice perché venivamo da un momento abbastanza complicato e riuscire a trovare le certezze non era così scontato. Si sono stati bravi nel mantenere la concentrazione alta in ogni momento e niente, è andata bene. Federico, era uno scontro molto delicato perché l'Emma Villas prima di questa partita era quinta in classifica e potenza più scena, era solamente due lunghezze sotto in classifica in sesta posizione, quindi un scontro diretto per poter andare alla pool promozione. Però la sensazione è che questa tensione non l'avete avvertita, comunque l'avete trasformata in senso positivo sin dal primo set, giocando veramente in maniera sciolta e fluida. Io sinceramente le affronto tutte quante come fossero delle finali, quindi non è quello, ma anche di squadra ragioniamo così. Certo, andiamo ad alti e bassi perché non è semplice, dobbiamo trovare la nostra quadratura di gioco, insomma ci sono state tante difficoltà da inizio anno e siamo stati bravi nonostante tutte le difficoltà da andare avanti. Certo, ora il cammino è ancora lungo e difficile, quindi non dobbiamo cantare vittorie troppo presto, assolutamente, anche perché non abbiamo fatto niente di particolare. Certo, ci concentriamo su quello che dobbiamo fare in palestra, lavorare tanto e niente, poi vedremo. Si è visto un passo in avanti della squadra in un periodo molto complicato, con tante partite una dopo l'altra, ora il turno infrasettimanale, poi domenica il match casalingo contro Grotta Zolina e poi settimana prossima di mercoledì la semifinale di Coppa Italia a Bergamo. Si è visto un passo in avanti in un periodo appunto con tante partite, con tanti impegni? Sì, sì, direi che il risultato ne è la prova, che abbiamo fatto un passo avanti, però come ho detto prima non è stato fatto niente di che, noi dobbiamo lavorare ancora tanto, tanto, tanto e cercare di costruire delle nostre certezze. Perfetto!